Domani pomeriggio sede CGL incontro con i candidati del Comune di Arezzo. Quali i temi che verranno affrontati? I temi nostri sono priorità di parte sindacale. Abbiamo delle emergenze enormi, in particolar modo il lavoro, il tema del lavoro. In particolar modo anche lo stato sociale che in questo territorio ha fatto i balzi indietro in maniera spaventosa, sapendo che la povertà in questa città è aumentata in maniera notevole. E poi anche di beni pubblici. Sapete anche qui che siamo stati molto polemici e abbiamo contrastato argomenti come Nuove Acque, come Sei Toscana, che secondo il nostro avviso sono dei veri e propri patrimoni pubblici, ma mal gestiti. Si parlerà anche di società partecipate? Partiamo da un presupposto. Le società partecipate non possono essere una zona di rifugio per ex. Vogliamo che l'animo sia assolutamente pubblico. Il servizio deve essere pubblico, con tutte quelle accortezze possibili, che risolva il problema dei soggetti incapienti, cioè che si trovano in condizioni di povertà. Noi furbetto di quartiere, che non sono in condizioni di pagare le loro bollette. Vogliamo un servizio che comunque sia più industrializzato, però vogliamo gente che abbia vere e proprie capacità per dirigere queste aziende assolutamente complesse, ma importanti. Sarà un confronto aperto al pubblico. Che cosa vi aspettate? Ci sentiamo nel diritto di porre delle esigenze precise. Una città che è sottoposta a una crisi massacrante da almeno cinque anni, bisogna dare prova non solo di intenti, ma di veri e propri impegni vincolanti. Domenica si è ammazzata una persona, era un operaio, perché da mesi era in condizioni disperate, non riscuoteva la cassa integrazione. Che prova di esasperazione bisogna dare ancora? Quindi le elezioni amministrative sono un momento per noi importante per porre al centro determinati problemi per noi fondamentali.